Oggi ci siamo oggi qui insieme con il Vicepresidente e il Presidente Ci troviamo sotto una roba stoccata E guardate un po' da stanotte cosa abbiamo puntato I nostri compensali oggi sono scarse 500 persone Allora, Vicepresidente di Venezia, abbiamo fatto infatti una bella Fai di vedere adesso, facciamo breve, cosa abbiamo fatto Signori, qua partiamo con i nostri antipasti, tutte specialità italiane I nostri fettati, le nostre bruschette, le mozzarella e pugliesi, signori Vitello Tornato, qui abbiamo le nostre olive mascolare Siamo chiamati per il Mediterraneo sulla piramide, signori Guardate qua, il nostro chef Armando Ciparelli o le piette, signori Per non parlare della borghetta, abbiamo borghettato la Nori Faccio il saluto, signori A questa speglia, signora, si sta preparando Gulasch, all'italiana, lo spezzatino Selezioni di formali italiani, tutti speciali, signori Abbiamo da Nordos dell'Italia, tutto E qui c'è un palano, di salsicce, ma che spettacolo I nostri fettici, le cruciate salsicce A salsicce Passiamo ai caldi, signori, le nostre zone I ceci, i guaglioni, abbiamo tutto Abbiamo la pescolia, il pesce fresco, signori E guardate che spettacolo, i nostri spada Dolci peschi, anche in canzone Tutto con emozione, signori E guardate che spettacolo, signori